Buon pomeriggio a tutti di essere qui, siamo qui per conoscere meglio la realtà locale, parlare con gli interlocutori locali, abbiamo avuto questa mattina degli incontri e delle conversazioni molto interessanti con il sindaco e con il governatore, il presidente della giunta regionale e adesso siamo qui per parlare con i portatori di interessi locali, quindi incontreremo loro e sempre con l'obiettivo di lavorare nella nostra ottica che è quella di lavorare per l'occupazione e per stimolare dinamiche positive a livello locale perché a noi interessa il contatto con il livello locale. Voglio veramente chiarire e specificare un punto, stiamo parlando di aiuti straordinari, di supporto, di sostegno straordinario per tutte quelle regioni in cui l'occupazione è fortemente dipendente da industrie in transizione, ne abbiamo identificate un centinaio di queste regioni in tutta Europa e ribadisco si tratta di un sostegno straordinario cioè che viene a aggiungersi, complementare e supplementare rispetto ai fondi di coesione normali che per questo periodo di programmazione, quindi 2021-2027 per la Puglia, ammonteranno a circa 3 miliardi e 800 milioni. L'obiettivo è sempre quello di sostenere lo sviluppo, uno sviluppo che deve essere sostenibile, verde, orientato al futuro e soprattutto mirato ai giovani per dar loro una buona qualità di vita qui.